Musica Palla sulla rete, anzi no murata, però è ancora viva Applausi del pubblico, Fribull per Monza Perez a tutto braccio, la difesa del muro di Orteanu Poi Depanis, Tiaquigno per Orteanu E il muro di Nicola Ionovec Musica Musica Il missile su cui c'è Olteanu, Tiaghinio ricorre la palla, va a servire Sabi, il muro composto e il re Neon è una sferetta. Sabi, Tiaghinio per Olteanu, il muro di Veres, ancora una rigiocata per Molfetta, Sabi, ma arriva il muro di Christian Prohm. De Pagli salse il bagger per Sabi, arriva però il muro di Thomas Beretta a fermare Sabi. Mirce in battuta, mania aperta di João Rafa e poi Partinho, boccia per Polo, lo aspettava, lo aspettava Peter Veres, gran muro per il perro. Grazie per la visione!